Allora, parliamo di denti fissi con o senza gengiva, questo è un argomento che trattai, in realtà l'ho trattato anni fa questo, e un saluto da Dottor Palmas, registriamo un video dove oggi vi spiego se avete perduto tutti i denti, ma anche se non avete perduto tutti i denti, i denti artificiali vanno costruiti con o senza gengiva, e feci un video anni fa di questo, però riguardandolo, proprio la settimana scorsa di notte loro giocano sul divano, le bimbi, io mi metto lì a vedere le cose, mi guardo io stesso in tv, e anche loro mi guardano in tv, no perché poi rivedendoli ti rendi conto se una cosa è una castroneria oppure sarà chiaro, e mi sono reso conto che in realtà non era così chiaro quel video, dovrebbe essere trattato meglio, più approfonditamente, perché ci sono delle eccezioni di cui non ho mai parlato, e che possono delle volte trarre in tranello il paziente stesso, non solo il dentista, perché partiamo dal presupposto anche che chi fa i denti deve fare dei ragionamenti che delle volte non sono semplici da fare, questi ragionamenti, devi prendere in considerazione diverse cose come vedremo, e per far capire il concetto userò un linguaggio semplice, ma soprattutto uso degli esempi semplici, visivi, un esempio visivo che vi chiarisce bene bene come la questione, ok? Poi immaginate che avete un palco, un palcoscenico con le luci, questo è il palcoscenico, e poi sul palcoscenico cosa c'è? Il sipario, no, cala il sipario, e su questo palcoscenico c'è per esempio Poleg, il nostro responsabile aftercare, il nostro responsabile aftercare, se avete problemi ricordatevi aftercare, non scrivete a dottor Palmas privatamente, tanto io non dico poi a nessuno, no lo dico perché molte volte mi scrivono e poi mi riscrivono, ma come mai, perché l'hai iscritta a me, devi andare al dipartimento aftercare, da Oleg, www.igiene.dottorpalmas.com Ok, su questo sito trovate in riferimento il telefono di Oleg, anche lui vi risponderà, poi immaginate se Oleg, per poter interagire con voi, ha bisogno di potervi vedere. Oleg sta sopra un palco, quindi gli elementi che possono interferire col fatto che voi vediate o meno Oleg sono intanto il palco dove lui si trova, ok? Lui si potrebbe anche trovare sul palco, sopra a un altro palco, per esempio, sarebbe un po' più in alto, oppure potrebbe esserci il sipario che si trova a un'altezza differente. Nel nostro esempio Oleg è il nostro sorriso, quando noi dobbiamo mostrare a chi ci guarda il nostro sorriso, abbiamo che i denti sono sostenuti da degli impianti che stanno nell'osso, in più sopra, o meglio davanti ai denti, ci sono delle labbra che possono mostrare o meno i denti. Questa è la prima cosa che bisogna chiarire, ovvero che i denti non devono stare dove si trovano gli impianti dentali, cioè gli impianti dentali sono delle simulazioni di radici, se vogliamo dirla in maniera semplice, delle viti, le viti non c'entrano nulla con le radici dei denti, anzi, sono fatte di materiali differenti e stanno in posizioni completamente diverse da dove stanno le radici dei denti. Infatti, se io schematizzo, per esempio, come sono i denti naturali mantenuti nell'osso, i denti naturali hanno una radice dal quale poi tutt'attorno ci sta attaccato l'osso, questo è tutto osso. Quando noi perdiamo il dente, non perdiamo solo il dente, ma perdiamo anche tutta la radice, andiamo a estrarre. Qua si deposita che cosa? Sangue, si crea un coagulo, come quando ti tagli il braccio, si crea un coagulo. Qua queste parti di osso a un certo punto vanno in necrosi. Quello che succede è che l'osso, a un certo punto, che si riforma a partire dal sangue, ha una forma differente da come era prima l'osso che manteneva il dente. Quando io metto un impianto dentale, l'impianto dentale non lo metto qua, dove c'era la radice mantenuta dall'osso, ma lo devo mettere dove è rimasto l'osso. Quindi gli impianti dentali, in realtà, questo qua sarà in questa posizione l'impianto dentale. Quello che io vado a mettere è questo rosso, e non questo blu. Cosa significa? Che qua, se io non simulo la gengiva, avrò che il dente sarà poi così lungo. Prima il dente era invece lungo così. Quindi, è chiaro questo? Cioè, il problema del dentone lungo in un paziente che ha perduto i denti, c'è sempre. C'è un caso specifico in cui non va simulata la gengiva. Cioè, se io qui non simulo la gengiva, e quindi l'osso che ho perduto, che ha sopra la gengiva, commetto un errore, perché ho poi un dente molto lungo. Io ho i classici dentoni lunghi così. Abbiamo messo una foto da poco sul gruppo dei pazienti, dove c'aveva i dentoni lunghi così. Ed era proprio per parlare a una persona che aveva scritto, ma le gengive ci vanno, io li voglio senza gengive. Guarda, io potrei dire, nel 95% dei casi la gengiva va sempre ricostruita. Perché un paziente che ha sofferto di piorrea, oppure ha avuto incidenti stradali, quindi è andato in chirurgia maxillofacciale, oppure gli hanno già messi impianti. Dobbiamo togliere anche gli impianti, quindi perdiamo ancora più osso, arriviamo addirittura agli impianti zigomatici e ancora di più il volume di gengiva che devo simulare. C'è solamente un caso in cui, vi dicevo, la gengiva non va simulata, ed è il caso in cui, o meglio, sono due i casi, il caso in cui, o il paziente quando sorride il sipario va molto in alto, e ci sono questi pazienti che i denti stanno nella posizione giusta, l'osso sta nella posizione giusta, ma quando sorride ha il labbro che va veramente tanto in su, si chiama quello labbro, iper, non mi viene il nome, è un iper, parlo troppo rumeno, ipermobilità labiale, ok, il labbro che va molto sopra. L'unica, la soluzione corretta in quel caso è fare che cosa? La tossina botulinica, paralizzare il labbro, non paralizzarlo, riportarlo a un valore normale di esposizione. Quei casi si risolvono in quel modo, ok? Quindi, prima di decidere se mettere o no la gengiva, io devo guardare il paziente e capire se la gengiva che lui mostra è una gengiva che è in eccesso, oppure se è semplicemente il labbro che va troppo in alto, quindi il sipario che va molto in alto. Questa mi fa decidere se fare o tossina botulinica oppure andare a tagliare osso. E in quel caso, se il labbro è normale, il paziente sorride e mostra la gengiva, significa che il paziente ha un viso lungo, un long face, dove ha un difetto di crescita della mascella, dove la mascella è venuta troppo in basso. Mi sarà capitato di vedere magari delle ragazze e dei ragazzi che sorridono e hanno i denti qua giù, proprio la mascella che è cresciuta in basso. Se quel paziente viene alla piorrea e perde i denti, e quindi perde anche osso, ok, torna in pari in realtà. E i denti vanno messi là, senza però ricostruire la gengiva, perché la parodontite gli ha fatto la chirurgia plastica, praticamente. e non è frequente questa, è una rarità che si ha il sorriso, non è proprio poco frequente, cioè ne vedo molti i sorrisi gengivali. E in quel caso, se io ho un paziente che mostra la gengiva, questo lo devo vedere prima di eseguire la chirurgia. Ok, poi il problema non è tanto se devo simulare o meno la gengiva, il punto è, sapendo dove devo mettere i denti, dove poi vado a mettere gli impianti, perché se ho molto osso, allora a quel punto vado anche a tagliare osso, di modo da nascondere gli impianti sotto al sipario. L'obiettivo è che quando il paziente sorride, si vedano i denti, non posso neanche dire un po' di gengiva, perché questo dipende dall'età. Un altro fattore da considerare è che i sipari, le labbra, soprattutto il labbro superiore, non ha la stessa lunghezza su tutte le persone. Ok, ci sono persone che hanno la pelle tonica e persone che hanno la pelle cadente. Dipende dallo spessore della pelle, dalla tonicità, dall'età, dal tipo di collagene che è una persona. Ci sono, ma in generale, ci sono delle persone che hanno labbra più carnose, labbra sottili, labbra sottiliato. Allora in quel caso, anche devi capire se è un labbro sottile o se è un labbro corto, perché cambiano poi i tipi di trattamento. Se è un labbro sottile, devo fare il filler. Se è un labbro invece corto, posso anche addirittura arrivare a mettere due punti di sutura, si fa una piccola chirurgia dove il labbro praticamente lo cucci qualche millimetro più giù. questo si fa per esempio sul labbro ipermobile. Telle volte si fa o la tossina botulinica oppure proprio si cuce. E' un intervento molto semplice. E' molto semplice. Si mostra tutta gente. Poi, la gengiva non è una cosa brutta da vedere. La gengiva, anzi, la verità è bella da vedere. E' quello che dà poi la salute, la naturalezza, la vista del sorriso. Infatti il parametro d'eccellenza proprio del sorriso bello dove cambia, a dire il vero. Se tu vai in Nord America non si deve vedere la gengiva. Se tu vai in Europa se ne deve vedere un pelino. Se vai in Sud America, in Brasile, c'è il sorriso gengivale di almeno 3-4 mm. E' alto, tanto il mio. Dipende dalla situazione di partenza. Ricordatevi che questa valutazione vi ho detto, va fatta prima. Perché se io c'è un sorriso, una mascella, un osso che è molto lungo vado a fratturarlo ma anche a accorciarlo. Se invece ho un osso della giusta lunghezza vado a fratturarlo ma rimetto le viti della stessa lunghezza poi al femore dopo. E questa è una considerazione che non viene fatta così alla luce del sole come io vi sto facendo oggi perché dietro ci sono delle politiche delle volte commerciali di cliniche che promettono i denti senza gengiva. Capite che se io dovessi fare pubblicità per attrarre pesciolini nello stagno dicendo denti solo senza gengiva non è vietato farlo però c'è il rischio che quando opero faccio la clinica degli orrori per mantenere fede alla promessa. Invece la verità è che bisogna dire al paziente intanto rimettiamo delle protesi dentali non dei denti veri, delle protesi. Venendo qua ora riflettevo come è anche etico chiamarli denti fissi non sono denti se tu li prendi in mano dici no il dente è questo questo non è dente questo è un manufatto protesico e li dobbiamo andare a rimettere in un ambiente comunque dove dobbiamo tenere conto che dobbiamo o togliere tessuto organico oppure è già stato perduto e quindi dobbiamo capire se va aggiunto oppure se l'averlo perduto ci ha risolto invece un'altra questione il fatto che se prima c'era troppo tessuto mi ha riportato le cose in piano a dirla tutta questa è una cosa che interessa anche a noi perché al paziente interessa dal punto di vista estetico a noi invece interessa dal punto di vista meccanico cioè di quello che noi dobbiamo costruire nella bocca del paziente sugli impianti dentali in questi casi anzi nel 5% dei casi nei casi in cui facciamo nel 2,5% dei casi non nel caso della tossicina botulinica ma nel caso in cui l'osso proprio era tanto ho meno spazio dove poter ricostruire i denti perché comunque si vedrà la gengiva ma la gengiva che si vede in questo caso è la gengiva reale e se io vado a mantenere la gengiva reale significa che l'unica zona che ho per costruire i denti è solamente questa zona invece quando io perdo anche osso io ho questa zona più questa che posso utilizzare per simulare la protesi e questo ci porta ora nella seconda parte devo andare un po' veloce perché avete sentito alle 4 dovete andare quando io ricostruisco i denti su un paziente vi dicevo prima i denti vanno là dove devono andare e gli impianti vanno dove c'è osso dove è rimasto osso nella quasi totalità dei pazienti dove va l'impianto quindi dove uscirà l'aggancio dell'impianto non coincide con dove deve andare il dente e dove c'è l'aggancio poi del dente quindi o metto o faccio coincidere le cose mettendo il dente indietro e in alto affinché questi due si connettano oppure metto l'impianto dove non c'è osso cosa è giusto secondo voi mettere i denti indietro e in alto fino ad arrivare agli impianti oppure li posso anche estorcere cioè posso metterli anche inclinati i denti però poi avete le palette le zappe in avanti così avete perché vanno verso l'impianto che l'impianto è dietro l'impianto va sempre dove c'è l'osso no, non c'è l'osso ma poi ti esce fuori dalla gengiva la vite tocchi con la lingua la vite poi è uscita fuori bravissima lei ha vista già le lezioni avanzate la soluzione è un'altra è semplicemente quello di cui mi sto preoccupando in questi giorni il punto non è ma il punto è un altro il punto non è che devono essere unite tra loro il punto è che devono essere connesse tra loro usare la falsa la barra la barra la barra infatti quando noi andiamo a mettere più impianti gli impianti non sono mai paralleli anzi più delle volte sono sghembi si mettono là dove c'è osso però poi i denti dovranno essere esattamente qua tra il sipario superiore il labbro e il labbro inferiore per unirli uso una barra che unisce tra di loro tutti gli impianti e poi c'è un perno che entra dentro ogni singolo dente questo materiale o meglio questa costruzione io la vado a posizionare in questo spazio quando il paziente non ha perduto molto osso noi addirittura lo andiamo a tagliare l'osso quello è il protocollo corretto e infatti una chirurgia perfetta dovresti andare a tagliare di netto dritto l'osso perché l'osso se non lo tagli comunque 0-2 mm li si riassorbirà negli anni e quello che aveva visto il dottor Malò di Lisbona che ha inventato poi il protocollo Lons-X o Lons-4 per rimettere tutti i denti su impianti era che gli tornavano i pazienti dopo 5-6 anni con lo spazio tra i denti e la gengiva e ti aspetta poco poco faccio la chirurgia lo tolgo direttamente via questo osso lo taglio e in più cosa faceva? che la linea di transizione tra la gengiva artificiale e quella naturale la andava a nascondere sotto il sipario in alto quando sorridi mostri denti con gengive ma uno non sa che quelle sono artificiali e quindi questo spazio viene sempre ricreato a meno che non ci sia più osso proprio che a un certo punto si è arrivato al pavimento del naso qui cosa tagli? c'è il rischio che tagli se è arrivato non puoi mettere più l'impianto non c'hai quindi devi anche tenere conto del blosso che è rimasto delle volte anche andiamo a ricostruire l'osso dentro al naso sono capitati anche casi in cui noi andiamo a fare la ricostruzione ossea nel pavimento del naso qualche millimetro si può ricostruire e questo quindi è uno spazio importante dal punto perché ci risolve il problema estetico ma soprattutto il problema meccanico di come mantenere i denti uniti agli impianti senza creare delle tensioni per errata inclinazione sui denti rispetto agli impianti quello che quindi ha inventato il dottor Malo è stato il protocollo Malo il protocollo Malo si tratta di andare a tagliare l'osso creare una barra che ingessa tra di loro gli impianti perché quando voi mettete gli impianti nella bocca è come se fosse una frattura la frattura cosa fa ingessi il braccio quando metti gli impianti devi legarli tra di loro e per farlo si usa una barra questa barra poi viene dopo i provvisori buttata se ne fa un'altra che invece anatomica esattamente va e i provvisori delle volte non hanno neanche la posizione poi dei denti definitivi andiamo in genere i provvisori a metterli più in dentro e a farli più grossi perché se li mettiamo più in dentro evitiamo di avere poi delle leve che fanno oscillare e magari c'è il rischio più che l'osso non riconosce questo oggetto che gli abbiamo messo dentro e lo espelle perché è come un corpo estraneo dice cosa è sta roba che si muove allora preferiamo fare i denti all'inizio bruttini, grossi, si rompono meno soprattutto il paziente che poi è stato 30 anni senza i denti che fai metti i denti fissi, bistecca e si meraviglia, si sono rotti e dice no l'uovo se non lo puoi tenere in mano lo puoi mangiare coi provvisori questa è la regola e anzi se non lo puoi tagliare lo puoi bere poi coi definitivi se non lo puoi tenere in mano lo puoi mangiare ok? sono protesi, sono delle simulazioni, sempre usare il coltello per tagliare e masticare dietro, mai strappare o tagliare davanti con queste simulazioni di denti però i provvisori cerchiamo di portare i denti più in asse con l'asse degli impianti perché dobbiamo evitare che facciano questo movimento gli impianti che si muovano lateralmente per trazione nel protocollo amalo c'è sempre la gengiva ok? c'è sempre la gengiva perché l'osso viene tagliato e se non lo tagliamo 90-95% dei casi comunque il paziente l'ha perso l'osso per la parodontite, per la piorrea quindi se voi vedete denti senza gengiva non è proprio così denti senza gengiva asterisco se in quel caso in cui c'è il gummy smile sorriso gengivale per ipertrofia ossea ovvero troppo osso che è cresciuta solo in quel caso quanti sono? pochi molto pochi sono ok? la verità è che la gengiva infatti se voi andate a vedere sui siti nostri sul gruppo tutte le arcate che noi andiamo a produrre hanno sempre la gengiva perché dobbiamo andare a creare una flangia che se dovesse anche riassorbirsi l'osso quella può essere aggiunta a gengiva artificiale e quindi se anche si crea spazio noi poi aggiungiamo gengiva ma se la gengiva non la creo aggiungo dente diventano i fanoni della balena sempre più lunghi ok questo è una piccola è un piccolo dettaglio che ora se vi riguardate quella foto nel gruppo avete la conoscenza per capire perché quei denti erano lunghi ok se voi andate sul gruppo io ora non ce l'ho qua se ha un paziente se un paziente la finisce così ci possono essere due motivi o gli hanno promesso i denti senza la gengiva e dovevano tenere fede oppure gli hanno messo i denti incollati, cementati e quello è un altro caso in cui non mettono le arcate avvitate le mettono incollate fanno uscire praticamente dagli impianti dei perni sui quali poi vengono incollate le protesi il problema è che questi perni vanno in una direzione che non permette di andare a mettere i denti là dove devono andare e quindi ti ritrovi i denti che sono più lunghi che vanno a intercettare gli impianti e anche storti però il paziente non lo sa questo il paziente magari si guarda anche allo specchio e si piace non ha le conoscenze per ha fatto i posti sì ok il paziente vi dico altre arcate che noi andiamo a smontare che sono fatte in maniera errata erano denti che erano cementati incollati sugli impianti non avvitati invece il fatto di avvitare i denti sugli impianti nasce da questo problema che il dente non va dove va l'impianto allora serviva che cosa? una barra qua da avvitare separatamente là dove è andata a finire l'impianto invece se io facevo uscire da qua un perno e sopra ci devo incollare il dente il dente va per forza lì e quindi ti ritrovi che sorridi e l'arcata è piccolina così perché gli impianti vanno sempre in posizione più palatale perché la mascella è fatta così come un cono gelato al rovescio quando perde l'osso il cono ha un diametro più piccolo quindi gli impianti in realtà vanno più in dentro ma i denti erano sempre da posizionare qua se io invece quei denti li vado a incollare sugli impianti che sono andati più verso il palato l'arcata è tipo una cernia la vedi bene di là se si mette avanti è stretta così invece per fare i denti larghi ho bisogno che i denti vadano dove devono andare con una struttura metallica che li tiene là che poi fa così a ginocchio si avvita poi sugli impianti quindi ho separato il problema di dove devono stare i denti da dove sono gli impianti ma lo aveva separato il problema ha detto semplice è un problema complesso non è impossibile va separato ovvero gli impianti li metterò dove devono essere messi i denti dove devono essere messi qua non scenda compromessi devo creare un costrutto meccanico con viti non con colle che mi permette di unire le due parti meccaniche e da lì è nata la tecnica appunto dell'All-4-All-6 che era una tecnica per rimettere le dentiere fisse a persone poco ambienti del Portogallo era stato inventato la più ormai di 25-26 anni fa dove prendeva le dentiere metteva 4 impianti quanto un tavolo i piedi minimi per stare in piedi e lì avvitava le protesi sopra questi 4 impianti e lì ha iniziato a vedere poi tutti i problemi che c'erano la gengiva, la perdita dell'osso l'asimetria delle volte di dove vai a mettere gli impianti erano pazienti in più che avevano la dentiera da tanti anni decenni e quando c'è la dentiera che batte l'osso se ne va completamente doveva fare zigomatici anche gli impianti andavano proprio su su sotto al naso quasi e diceva quello sorride i denti non si vedono perché? perché sono andati troppo in alto i denti però glieli ha messi in bocca in quel caso è possibile che ripeto l'anziano oppure anche l'adulto che ha il labbro molto lungo sono state fatte delle misurazioni poi sulle labbra Pascal Magno un famoso odontoiatra estetico svizzero trasferitosi in California lui è andato a misurare tutte le lunghezze delle labbra e ha visto che più o meno un labbro quando è come dire un labbro ci sono diverse tipi di lunghezze quando è in posizione di riposo sono 27 mm di lunghezza quando invece sorridi arriva fino a 17-19 mm ci sono labbra anche che si accorciano ancora di più allora li mostri la gengiva oppure ci sono labbra dell'anziano che arriva anche a 34 mm però i denti non li puoi mettere qui giù perché lui c'è il labbro che scende giù crei lì un altro problema poi di funzione alla persona delle volte non sempre può essere che i denti pur che sorridi pur che sono messi giusti non si vedono che tagli il labbro ma queste cose le sa solo lei o le sa di tutti i dentisti che hanno studiato quando vuoi guarda più ne fai più ne fai e più ti fissano ti si fissano i libri ci sono le hanno codificate le cose le hanno già viste 26 anni fa ti ho detto le sa o solamente il palma se più avanti chi non le studia non le sa a prescindere che sia laureato o meno ci sono persone che non sono laureati odontotecnici che le sanno queste cose cioè lei non lo farebbe mai un lavoro contrario e perché loro lo farebbe? perché l'hanno delle volte inesperienza delle volte non conoscenza grazie a tutti